La città che cambia in mostra sabato prossimo alle ore 18, il taglio del nastro di questa mostra che fa la sintesi storica di questi ultimi anni della nostra città ma soprattutto ridisegna il futuro di Cava dei Tirreni. Sì, è letteralmente impressionante ciò che i cittadini potranno vedere se verranno da sabato 18 fino ai primi di gennaio, se verranno presso il compresso di San Giovanni dove sarà inaugurata sabato proprio alle 18 questa mostra sulla città che cambia. E' impressionante perché ci sono più di 20 progetti, gran parte concentrati nel centro di Cava dei Tirreni, dell'importo complessivo di circa 80 milioni di euro di cui sono stati realizzati una piccola parte come la terza corsia dell'autostrada, come la conclusione dei lavori del trincerone, come il prolungamento del centro cittadino e di cui sono in corso di completamento altri come Piazza Abbro, come Villarende eccetera. Tanti sono invece proprio adesso sul nastro di partenza, abbiamo fatto il conto che quelli che devono partire e quelli che invece sono già partiti complessivamente impegnano una somma di oltre 60 milioni di euro. E' una grande scommessa per Cava dei Tirreni che richiede una guida presso il comune, che richiede chi si occupi dei rapporti con la regione, con la sovrintendenza, con i ministeri, perché in mancanza di ciò corriamo il rischio serio di dover restituire poi entro fine 2015 queste risorse. E doverle poi restituire quando gli appalti sono partiti sarebbe una vera tragedia per il comune di Cava. Ecco perché nell'occasione di questa conferenza stampa ho fatto un appello a tutte le forze politiche dopo la crisi aperta dal gruppo consigliere Fratelli d'Italia affinché responsabilmente consentano a questa amministrazione di completare il proprio lavoro. Dopodiché ci sarà la possibilità per tutti in campagna elettorale di dare le proprie ragioni e ci sarà una nuova amministrazione, magari sarà ancora preseduta da Marco Caldi, ma questo importa poco. L'importante è che ci sia in questa fase delicatissima una continuità amministrativa che un commissario, che magari prefettizio che viene due volte alla settimana in un comune non può certamente dare. Quindi una grande, grandissima opportunità di cambiamento che i cittadini possono vedere visitando la mostra della città che cambia presso il complesso di San Giovanni, che peraltro sarà uno di quelli completamente trasformati. Una grande, grandissima opportunità che potrebbe invece diventare un boomerang se non sarà adeguatamente gestita da un'amministrazione nel pieno dei suoi poteri. La responsabilità di tutti per chiudere questa consigliatura, dopodiché ovviamente ognuno potrà anche prendere la sua strada, ma per il momento è prioritario per seguire l'interesse della città, che è la conclusione naturale di questa consigliatura.